benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo vlog oggi un video dedicato al nuoto in particolare al nuoto in acque libere oggi andremo a nuotare su una distanza di circa 3000 metri nel lago di avigliana quindi vi porto con me in questa avventura per me tra l'altro anche un po nuova perché non ho mai nuotato in un lago condivido con voi qualche riflessione prima di infilarci la muta e di iniziare poi inizio col dirvi che la mia esperienza di nuoto ormai da quasi trent'anni ho sempre nuotato in piscina in mare in particolare in mare perché io arrivo dalla dalla subacquea e dall'apnea il nuoto per me in acque libere è un pochino quello che è associato al mondo della subacquea e dell'apnea so nuotare e sono un nuotatore lento ma resistente mi definisco così nel senso che riesco a togliermi da più o meno quasi tutte le situazioni ho imparato a gestire abbastanza bene le situazioni scomode che ci si possono presentare in acqua crampi, malesseri, malori, paura degli spazi aperti ma non sono un gran nuotatore veloce mi sono mai applicato troppo alla tecnica anche perché non serviva più un nuoto efficiente lento ma con bassissimo dispendio energetico in più quello che è l'apnea si nuota con le pinne quindi sostanzialmente la propulsione deriva tutta dagli arti inferiori e non dalla parte superiore come effettivamente nel nuoto classico. Il mio approccio con il nuoto e con l'acqua con tutto quello che è il mondo liquido c'è fin da quando ho 12-13 anni dove ho preso il primo brevetto per bombole a 14 anni che è l'età minima poi ho iniziato con l'apnea a 15-16 anni, ero assistente bagnante a 16 anni quindi ho lavoricchiato come bagnino, ho sempre nuotato e però se devo essere sincero il nuoto in lago un po' mi turba non sono così tranquillo e rilassato misto tra l'eccitazione di provare una cosa nuova e la paura di nuotare in un posto che non conosco in un ambiente che per me in questo momento è un po' sconosciuto perché mentre il mare più o meno è un ambiente che conosco e che ho imparato a conoscere correnti, osservandolo, analizzando le previsioni il lago sinceramente è proprio una cosa che a me è totalmente ignota quindi cercherò di coinvolgervi in questa mia esperienza prima nuotata al lago della mia vita e vediamo come va prima di andare a cambiarci e di arrivare sullo spot dove ci sistemeremo volevo farvi partecipi di quello che sarà l'allenamento di oggi un allenamento di fondo, quindi un fondo lento sarà una nuotata tranquilla, rilassata, cercando di essere il più efficace possibile gli scopi dell'allenamento di oggi saranno sostanzialmente tre il primo sarà quello di testare il nuoto in acque libere in particolare in quelle lacustri, quindi quelle di un lago esperienza a me nuova la seconda sarà quella di provare l'attrezzatura per il nuoto in acque libere perché ho una muta che non ho mai provato la boa di segnalazione eccetera quindi anche l'organizzazione del nuoto in acque libere quindi testeremo l'attrezzatura da non arrivare mai impreparati nel momento in cui sarà necessario che tutta l'attrezzatura e tutto quello che ruota intorno alla performance non sia lasciato al caso e quindi sia una parte già testata e collaudata terzo è un allenamento di fondo quindi sostanzialmente andiamo a allenare quella che è la resistenza aerobica telefonate al lavoro non mancano mai né quando ci si allena, non mancano mai comunque stavamo dicendo l'allenamento di oggi quindi sarà suddiviso in due sezioni una parte diciamo di nuoto libero e poi un combinato di corsa e non è da sottovalutare il combinato corsa nuoto corsa perché per l'allenamento per l'allenamento che cazzo sto dicendo in questo periodo di preparazione mancano circa 10-12 settimane l'evento di settembre è importante ancora allenare bene tutto quello che è il motore aerobico quindi facendo dei lunghi facendo dei lavori a bassa intensità e lunga durata mano a mano che ci avvicineremo all'evento diciamo quando mancheranno circa 4 settimane si inizieranno a fare lavori più specifici a passo gara adesso siamo ancora troppo lontani quindi conviene lavorare ancora di più nella zona aerobica diciamo nella fascia cardiaca della Z2 tanto per capirci come avevo già specificato nel vlog della bici quando vi ho portato con me a fare un lungo in bici e trovate il link qua sopra da qualche parte alterno gli allenamenti a bassa intensità e lunga durata ad allenamenti a più alta intensità e durata inferiore quindi in una sorta di allenamento polarizzato quindi sessioni a bassa intensità con sessioni ad altissima intensità quindi a soglia e oltre soglia cercando di lavorare il meno possibile nella fascia diciamo quella del passo gara quindi o molto sotto il passo gara o molto sopra il passo gara e questo allenamento devo dire che per il momento e per quel poco che ho potuto vedere di risultati sta avendo i suoi effetti eccoci arrivati adesso andiamo preparare la muta andiamo a preparare la muta per per avvicinarci al lago prepariamo la boa e tutta l'attrezzatura che ci porteremo dietro lasciamo qui la macchina e ci avviciniamo all'acqua e poi iniziamo la nostra la nostra la nostra bella adesso adesso faccio una magia qui qua ecco fatto allora abbiamo anche preparato la boa bocchialini cuffia e siamo pronti un po' di strada ci si fanno dall'acqua pensavo che il percorso fosse così lungo per arrivare all'acqua eccoci eccoci arrivati eccoci qua ci prepariamo e poi entriamo per la nostra nuotata eccoci qua finalmente ci siamo adesso andiamo a farci questa nuotata e ci vediamo dopo per le impressioni ciao a tutti ciao 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 eccoci sulla strada del ritorno come è andata? è andata bene è andata bene all'inizio la sensazione è sempre strana e la visibilità è praticamente nulla quindi c'è quella quella stranezza nel non vedere nulla sotto e che dà quella sensazione di ignoto però dopo poche bracciate ci si abitua e vorrei mandare una bella diciamo una bella sessione seduto successo a quella che mi ha rubato le ciabatte visto che devo fare quasi un chilometro a piedi sull'asfalto spero che vi facciano vedere questo video che si accorga che poteva anche evitare di rubare un paio di ciabatte da 3 euro e niente direi che per oggi è tutto con questo vlog sul nuoto non credo farò la sessione di corsa perché è tardi con un po' di appuntamenti e noi ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao